Bene, buon pomeriggio. Dunque, stiamo parlando della gestione della memoria dinamica e abbiamo detto lunedì che una delle applicazioni più importanti della memoria dinamica è la possibilità che ci concede di poter allocare memoria al volo e questa opportunità è colta in pieno da tutte le funzioni che vanno a lavorare con le strutture dati che sono le liste, liste semplici, liste doppiamente linkate, i grafi, gli alberi. In questo corso vediamo solamente come realizzare le liste semplici e quindi focalizziamo la nostra attenzione su sei funzioni che servono tre per inserire elementi nella lista che quindi possono essere utilizzati per creare la lista a partire dalla lista vuota che è indicata dal puntatore nullo e tre altre che invece servono per estrarre elementi da una lista. Al termine di questa lezione faremo un esercizio riepilogativo e poi darò un'ultimissima informazione che riguarda la possibilità di poter vedere a runtime se la memoria a disposizione nell'OIP si sta per esaurire in maniera tale da non mandare in crash il programma qualora non sia rimasta sufficiente memoria per poter gestire, processare tutti i dati che l'utente sta processando in quel momento. Le funzioni che abbiamo già anticipato lunedì di cui tratteremo sono l'inserimento in testa una lista, l'inserimento in coda una lista e l'inserimento in un particolare punto della lista secondo quello che è un ordinamento che noi pensiamo debba vigere sulla lista. Le tre funzioni di estrazione sono l'estrazione dalla testa, l'estrazione dalla coda, l'estrazione di un particolare elemento che andremo a cercare all'interno della lista. La prima in realtà l'abbiamo già vista lunedì scorso, l'inserimento in testa per cui la do per assodata e quindi passiamo a vedere la seconda, cioè la funzione che vi propongo, ovviamente non è l'unica, ce ne possono essere varie di implementazione, però questa qui non mi sembra particolarmente inefficiente e poi sfrutta pieno le caratteristiche del C++, come cercherò di mettere in evidenza. Bisogna estrarre un elemento dalla lista. Allora vediamo quali sono i casi che si possono presentare. Il primo caso, un caso diciamo così un po' anomalo, è che la lista è vuota. Estrarre un elemento da una lista vuota, lì è rappresentato dal puntatore inizio, che vedete che è sbarrato, è la grafica che sto utilizzando per dire che quello è un puntatore che ha valore 0, cioè punta null, null. Quindi la lista è vuota, la lista che lui sta puntando non esiste. Se facciamo partire una funzione per estrarre un elemento da una lista che non ha elementi, dobbiamo estrarre dalla testa, in questo caso, ma di una lista vuota, che cosa faremo e vogliamo che questa funzione restituisca al programma che l'ha mandato in esecuzione un'informazione, che restituisca un'informazione che non esistono elementi da estrarre. Quindi daremo a questa funzione la struttura di una funzione booleana, cioè restituisce false se dentro la lista è vuota. Quindi sostanzialmente, nel caso che la lista è vuota, noi vogliamo che restituisca il valore false, la nostra funzione. Quindi già in mente è chiaro che dovrà essere non una procedura, ma una funzione booleana. L'altro caso, il primo è veramente un caso particolare. Questo qui è un caso un po' meno particolare, è il caso in cui nella lista c'è un solo elemento. Se andiamo a estrarre dalla testa di una lista, che in quel momento ha un solo elemento, un elemento, cioè quello lì, il puntatore all'inizio della lista cosa diventerà? Null. Cioè se estraiamo dalla testa di una lista, che c'è un solo elemento, la testa della lista, cioè quell'elemento, la lista che produciamo è una lista vuota. Quindi, noi che cosa faremo? prenderemo l'elemento da estrarre e molto probabilmente questa funzione che stiamo per realizzare la utilizzerà un programmatore per andare a prendere l'elemento dalla testa della lista, toglierlo dalla lista, sì, ma poi farci qualche cosa, perché difficilmente uno la toglie e basta. Lo toglie un elemento da una lista perché lo vuole processare quell'elemento, andare a vedere chi era, chi non era, cose di questo genere. Allora noi metteremo l'elemento che togliamo dalla lista su una variabile di appoggio che servirà per restituire l'elemento estratto al programma chiamante. Cioè ci prepariamo per fare una funzione perfetta, completa, che la possiamo utilizzare nei nostri programmi perché non gli mancherà niente a questa funzione che stiamo per vedere. Cioè toglie l'elemento e lo appoggia su una variabile che c'era già nel programma chiamante in maniera tale che al termine la funzione non solo ha tolto l'elemento dalla testa della lista ma l'ha anche appoggiato su una struttura per successive elaborazioni che farà il main, per esempio. Fatto questo, cioè salvato l'elemento da eliminare dalla lista su una variabile, la lista, come abbiamo detto poco fa, diventa la lista vuota. Ok? E questo era un secondo caso un po' particolare. Il caso generico è quello di una lista con n elementi. Per esempio in questo caso c'è una tre, ma ovviamente è solo un esempio. Adesso bisogna capire l'algoritmo come lavora. Qui in realtà è abbastanza semplice perché dobbiamo estrarre quello che sta in testa che è quello che è puntato dal puntatore inizio. E quindi non dovremo scorrere la lista perché già il puntatore inizio sta puntando all'elemento che dobbiamo eliminare. Quindi che cosa faremo sostanzialmente? Dobbiamo lavorare per produrre un bypass. Questo è quello che noi dobbiamo realizzare. Bisogna solo capire il modo più veloce, più efficiente per realizzare questa funzione. Chiaramente dobbiamo mandare inizio a puntare quello che nella lista originale era il secondo elemento. Già fatto questo, l'elemento che prima era il primo è perduto perché non è più puntato da nessun puntatore. e quindi dovremmo predisporre la nostra funzione in maniera tale che ci consenta di liberare quel pezzo di RAM, quello occupato da D3, per capire. Perché se non lo facciamo, a runtime rimane bloccato a quel pezzo di memoria, cioè non può essere riutilizzato per successive allocazioni. Quindi dobbiamo fare il purge, cioè la garbage collection. Va bene. Allora vediamo appunto il codice come può essere implementato di questa funzione che ho cercato di illustrare nel suo funzionamento. Innanzitutto, come ho appena detto, la pensiamo come una funzione booleana. E quindi, vedete, restituisce un valore booleano. E gli daremo ovviamente un nome che... E poi, la cosa importante è che gli passiamo due parametri. Il primo è la lista. Ovviamente, vi ricordate, abbiamo visto lunedì che la lista si può passare a una funzione passandogli il puntatore al primo elemento. Quindi gli passiamo il puntatore al primo elemento della lista e poi gli passiamo un secondo elemento che è la variabile su cui dovrà andare a appoggiare l'elemento che va a eliminare dalla testa della lista. questa funzione. Come vedete, ho predisposto le cose in maniera tale che entrambi i puntatori siano tipo riferimento. È facile capire per quale motivo passo la variabile A per riferimento. La passo per riferimento perché questa funzione appunto dovrà andarla a modificare questa variabile che io gli passo. Cioè, ci dovrà andare a scrivere sopra un valore. Se la passassi per valore, questo non sarebbe possibile. gli devo proprio passare la variabile, cioè l'indirizzo della variabile. Come vedete qui, gli passo l'indirizzo della variabile A in maniera tale che la funzione che vado a implementare mi vada a lavorare proprio con la variabile che io gli passo. Un po' più interessante è il motivo per cui gli passo per riferimento anche il puntatore al primo elemento della lista che dovrà andare a elaborare questa funzione. perché già inizia un puntatore allora perché gli passo invece che il puntatore il riferimento al puntatore? Il puntatore sarà da qualche parte. Il puntatore contiene l'indirizzo il puntatore contiene il puntatore contiene l'indirizzo del primo elemento della lista. Questo lo sappiamo. Il puntatore contiene l'indirizzo del primo elemento della lista. E quindi io passandogli il puntatore già gli passerei la lista. Per quale motivo invece che passare il puntatore io gli passo l'indirizzo del puntatore? Perché anche il puntatore ha un indirizzo. Bravo. Bravo. Perché adesso come vedete anche qui in questa grafica ci sono due casi il caso in cui c'era un solo elemento e il caso in cui l'elemento che vado a togliere è un elemento generico non il primo scusate sto pensando già alla funzione che vi do spiegare fra un attimo in entrambi i casi andando di eliminare il primo elemento il puntatore all'inizio cambia il valore e quindi se io passassi solo al puntatore potrei andare a cambiare il valore dell'elemento puntato al puntatore quello sì ma non potrei cambiare il puntatore stesso ripeto vedete vedete sto puntatore qui inizio prima era verde e poi diventa abbarrato quindi io ho cambiato il valore non ho cambiato il valore della variabile che lui punta ho cambiato proprio il valore scritto dentro di lui vedete vedete qui la seconda esempio vedete questo verdino qui puntava di 3 prima quindi dentro c'era un certo valore dopo punta un altro e quindi c'è un altro valore un altro indirizzo della ram quindi in entrambi i casi io vado a cambiare il valore di inizio e dunque glielo passo per riferimento passandoli per riferimento io non gli passo non lo userò dereferenziandolo per andare a prendere la variabile che lui punta no andrò proprio a variare l'indirizzo che c'è scritto dentro a lui quindi quella che state per vedere sostanzialmente è una delle funzioni più efficienti che potete pensare per fare questo mestiere se dereferenzi il puntatore dentro la funzione vai a prendere in questo caso D1 in questo caso D3 se io lo passi come puntatore poi lo vai a dereferenziare e prendi l'elemento che lui punta se tu invece di andare a variare lui gli devi passare l'indirizzo del puntatore in maniera tale che a quel punto tu vai a lavorare proprio con quel puntatore e modificare il valore che sta scritto dentro il puntatore non il valore che sta scritto dentro la variabile all'indirizzo scritto dentro il puntatore ecco adesso non avete capito niente ma sperando che stiamo registrando sarà chiaro riascoltando adesso andiamo a vedere proprio il codice ecco vi ripeto questo codice come vedete la funzione che sto facendo vedere è veramente efficiente però indubbiamente non è intuitivissima se pensate di poterci ragionare all'esame ci potete certamente ragionare perché 4 e 4 istruzioni però perdete un sacco di tempo l'ideale è che fate come quando si faceva scuola oggi oggi è il 5 maggio che è successo il 5 maggio sono successe tante cose tifosi interisti ne ricordano qualcuna invece io io ricordo i fusi come immobile dato il moltasso spiro stette la spoglia in memore orba di tanto spiro adesso questa cosa qua ve la dovete imparare a memoria ok cominciamo a vedere innanzitutto ci generiamo il puntatore che dovremo andare a utilizzare per fare la modifica interna alla funzione e cioè ci generiamo questo puntatore P e come vedete gli diamo come indirizzo l'indirizzo del primo elemento della lista come facciamo a farlo è semplicemente che abbiamo scritto lista P quindi P è un puntatore a elemento e gli abbiamo dato come valore il valore che abbiamo preso dal primo argomento della funzione quindi in questo momento P è un nuovo puntatore e sta puntando lo stesso elemento che sta puntando inizio che gli abbiamo passato qui mi seguite dopo di che devo andare a considerare il caso in cui la lista è vuota comincio a eliminare questo caso a eliminarlo a gestirlo cioè vado a vedere se inizio che in questo momento è anche P perché i P inizio hanno lo stesso valore è 0 quindi se P è 0 allora non devo fare niente devo restituire il valore booleano false perché? perché la lista è vuota devo estrarre un elemento la testa da una lista vuota non faccio niente e la funzione termina qui punto se va avanti è perché c'era almeno un elemento dentro la lista allora intanto mi vado a salvare sulla variabile passata per riferimento il contenuto del primo elemento che sto per eliminare perché lo fa questo ovviamente lo possiamo pure non farlo ma lo sto facendo perché probabilmente io lo elimino ma come dicevo prima lo elimino perché poi lo voglio processare da lato main allora me lo salvo sulla variabile che ho passato al secondo argomento dopodiché e quindi quella variabile viene valorizzata con D3 dopodiché vado semplicemente a fare un scatto in avanti al puntatore inizio quindi dopo che sarà eseguita questa istruzione inizio uguale P freccia succe inizio punterà il secondo elemento della lista e a questo punto il primo elemento quello che ha come valore D3 è perduto e quindi non c'è più dentro la lista il primo elemento della lista è D2 ok però D3 sta lì ancora occupare la memoria e allora quello che dobbiamo fare è delete P ecco a cosa serve P P ci serve per poter cancellare cancellare per poter rendere disponibile quella zona della RAM che precedentemente era occupata D3 e adesso non serve più e quindi può essere riutilizzata in allocazione dinamica a questo punto l'elemento veramente non c'è più e quindi possiamo restituire true e la funzione è finita ok è chiaro a tutti funzionamento di questa funzione domande si può si può anche fare come dice lei però a questo punto la cancellazione verrebbe fatta da main da programma chiamante o beh dipende da come la concepisce sì potevamo anche farla in maniera tale che restituisse il puntatore però così facendo adesso noi stiamo per dare la stessa forma a tutte le funzioni e sarà omogenea così però abbiamo anche il bull che ci dice se abbiamo tolto o no l'elemento sì questo è un modo in cui farei questa cosa in C però siccome in C++ le funzioni possono restituire un booleano l'ho fatta così questa è una funzione tipica da C++ anche è osservazione giusta è come l'avrei fatta se avessi programmato in C diciamo va bene anche come lo pensa lei questa funzione restituisce il valore false quando dice non c'era niente dopodiché il valore l'elemento restituito l'ha appoggiato su questa variabile qui potevamo fare anche come diceva lei altre domande ovviamente ripeto questa è una delle possibili implementazioni delle tante possibili ok dopo vedremo un esercizio ripilogativo come funziona questa la vedremo all'opera alla fine della questa era la seconda vediamo le altre quattro e poi alla fine faremo un ripilogo andiamo alla seconda torniamo all'inserimento alla terza andiamo a inserire un elemento questa volta non in testa come abbiamo fatto lunedì ma in fondo alla lista cioè noi abbiamo un elemento che è qui in una variabile che sta per esempio nel main e vogliamo aggiungere un elemento alla lista e vorremmo mettere in questo elemento che aggiungiamo il valore D0 rappresentato qui da D0 e poi questo nuovo elemento della lista vogliamo che stia in fondo alla lista non in testa allora cominciamo a vedere i casi che si possono presentare il primo caso è che la lista è vuota cosa succede se andiamo a inserire in fondo a una lista un elemento se la lista è vuota non D0 inizio punterà un nuovo elemento ovviamente dobbiamo creare un nuovo elemento e lo facciamo con la new in C++ in questo nuovo elemento ci andremo a mettere D0 come valore copiare poi inizio punterà questo nuovo elemento e il campo successivo del nuovo elemento che avrà come valore D0 sarà settato a null a 0 quindi anche in questo caso come vedete inizio cambia il valore e quindi già sappiamo che dovremo passarglielo per riferimento se vogliamo smettere di pensare alla C e pensare in termini di C++ in generale per inserire un elemento in fondo a una lista che non è vuota bisognerà scorrerla fino ad arrivare dove? all'ultimo elemento però se facciamo scorrere un puntatore per arrivare all'ultimo elemento ci potremmo trovare in difficoltà poi dopo a fare l'inserimento perché abbiamo un puntatore all'ultimo elemento ma non abbiamo un altro per fare l'inserimento mi spiego facendo vedere la soluzione che propongo e vedrete che non potevo fare a meno di considerare due puntatori di far scorrere invece che uno solo allora la tecnica che utilizzo è quella di creare due puntatori P e Q che utilizzerò anche nelle altre tre funzioni che stiamo per vedere e riproporrò sempre la stessa tecnica e la tecnica è questa qui a uno di quei due gli farò fare la lepre lo manderò a correre e all'altro lo farò rincorrere come nelle corse dei cani che si manda la lepre poi in questo caso nella grafica che sto facendo farò scorrere Q e ad ogni ciclo ovviamente quando dico scorrere vuol dire che sto per far partire un ciclo perché dovrò far scorrere la lista e quindi non lo posso fare se non con un ciclo e farò correre Q e P la farò rincorrere cioè farò così faccio partire il ciclo e sposto in avanti il puntatore Q dopodiché farò in maniera tale che P arrivi a raggiungere Q adesso Q lo porterò in avanti fino a quando diventerà null perché quando Q diventa null vuol dire che abbiamo raggiunto la fine della lista e in quel ciclo lì in quella iterazione di quel ciclo uscirò dal ciclo e quindi impedirò a P di ugualiarlo così facendo Q sarà null e P punterà l'ultimo elemento mando Q a puntare D1 P lo raggiunge a questo punto Q va oltre e diventa null e usciamo dal ciclo in questa maniera P sta puntando l'ultimo elemento potevamo anche farlo con un solo puntatore semplicemente formando P quando P freccia succe diventa null però a questo punto non avremmo potuto fare l'operazione che stiamo per fare adesso per cui ci serve un altro puntatore che operazione dobbiamo fare ora noi dobbiamo creare il nuovo elemento perché dobbiamo inserire un elemento e quindi lo dobbiamo creare con la new int new elem in questo caso dobbiamo associare però il nuovo elemento un indirizzo del nuovo elemento a un puntatore e qua ce l'abbiamo un puntatore che ormai non serve più Q Q ci è servito da lepre adesso ha fatto il suo compito lo possiamo riutilizzare per puntare un nuovo elemento che andiamo a creare creiamo un nuovo elemento con la new con la new chiedo scusa e poi associamo l'indirizzo del nuovo elemento al puntatore Q ora abbiamo siamo pronti per effettuare l'inserimento e che cosa dovremmo fare per effettuare l'inserimento esatto cioè quello che dobbiamo fare è far sì che quello che era l'ultimo elemento della lista in questo caso D1 per capirci non deve essere più l'ultimo ma dovrà essere il penultimo e quindi lui dovrà puntare l'elemento che abbiamo appena creato e come facciamo a fare questo lui è puntato da P P succe P freccia succe uguale Q poi Q deve diventare l'ultimo cosa significa che diventa l'ultimo che Q freccia succe diventa nulla queste sono le due operazioni che dobbiamo andare a fare cioè dobbiamo beh innanzitutto valorizzare l'elemento che abbiamo appena creato cioè dobbiamo metterci il D0 e ce lo dobbiamo mettere dopodiché fare quelle operazioni che dicevo e cioè il campo succe dell'ultimo del vecchio ultimo che è puntato da P e quindi quello sarebbe P freccia succe deve diventare Q da NIL diventa Q invece Q freccia succe deve diventare NULL ok altro non dobbiamo fare ovviamente dopo Q e P non servono più ma quando finisce la funzione vengono automaticamente cancellati e alla fine avremo la nuova lista con l'elemento inserito in coda va bene è chiaro quello che dobbiamo fare se è chiaro quello che dobbiamo fare andiamo a vedere come farlo in C++ ok allora di nuovo una funzione con due argomenti il primo argomento è la lista e il secondo argomento è l'elemento contiene i valori che vogliamo mettere nel nuovo elemento che andremo a inserire questa volta la funzione non è più booleana ma è una procedura restituisce void perché inserire un elemento dentro una lista anche quando la lista è vuota ha sempre successo non sbagli mai non ha mai fallimento e quindi la implementiamo come avevamo fatto anche per quella che abbiamo visto lunedì se l'andrete a rivedere la implementiamo come una procedura il secondo elemento questa volta lo passiamo per valore perché non vogliamo che la funzione ci cancelli qualche cosa e quindi ci metta su una variabile il valore cancellato semplicemente utilizziamo la A per passare il valore che dobbiamo inserire e non per restituirlo e quindi lo passiamo per valore viceversa la lista gliela passiamo di nuovo per riferimento perché perché c'è un solo caso in realtà il caso cioè in cui andiamo partiamo da una lista vuota in cui effettivamente andiamo a modificare il valore del puntatore negli altri casi basta che c'è un solo elemento quando si inserisce in coda l'inizio non verrà modificato ma per solo quel caso lì noi siamo costretti a passarlo per riferimento perché se la lista è vuota prima il puntatore inizio era 0 dopo che ha inserito non sarà più 0 ma sarà l'indirizzo del nuovo elemento che abbiamo inserito ok allora andiamo a vedere per prima cosa ci generiamo i due puntatori che ci servono per fare lo scorrimento la lepre e il cane e poi implementiamo lo scorrimento con un ciclo for in cui alla lepre prima gli diamo il valore di inizio la facciamo entrare nella lista dall'ingresso e poi ogni volta a ogni ciclo aggiorneremo il valore della lepre q diventa q freccia succe e quindi fa sempre un salto in avanti fino a quando q non diventa 0 quando q diventa 0 cioè nulla questo ciclo termina il corpo del ciclo altro non è che p che richiappa q p riprenderà sempre q fosse lunga un milione di elementi la lista per un milione di volte p riprenderà q meno l'ultimo perché q quando q diventa nil si esce dal ciclo e p punterà l'ultimo elemento non diventerà nil a questo punto q è nil e p punta l'ultimo elemento creiamo il nuovo elemento da inserire ci andiamo a mettere dentro i valori che vogliamo inserire e li prendiamo dalla variabile a e poi andiamo a distinguere i casi ok l'ultimo elemento lo settiamo settiamo il campo succe dell'ultimo elemento al nil perché sicuramente sarà l'ultimo quello che abbiamo appena creato e poi dicevo andiamo a distinguere i due casi e cioè andiamo a vedere se per caso non ci siamo mossi dall'inizio perché quel ciclo for di prima assegna q a inizio se inizio era 0 non parte per niente il ciclo for perché q è 0 e quindi questa istruzione non viene eseguita quindi nel caso particolarissimo unico in cui la lista che gli abbiamo dato è vuota il for non parte per niente e lo richiapiamo qua giù questo caso abbiamo visto abbiamo creato l'elemento abbiamo messo il valore e ci siamo ci rendiamo conto qua giù che inizio è ancora 0 no era 0 che inizio era 0 qui potremmo anche mettere if q uguale 0 sarebbe stato lo stesso comunque andiamo a vedere se inizio è 0 vuol dire che la lista è vuota inizio diventa q e quindi inizio andrà a puntare l'elemento appena creato se non è questo il caso quindi inizio andrà a creare a puntare l'elemento appena creato che sarà l'unico elemento della lista a quel punto se non era questo il caso cioè il caso che abbiamo passato la lista vuota e allora che cosa dobbiamo fare devo dare a p p punta all'ultimo e quindi devo fare che p freccia succe diventi q e la funzione è finita anche questa è una funzione particolarmente efficiente l'esempio lo vedremo in riepilogo questa era la terza funzione andiamo alla quarta delle sei torniamo all'estrazione dobbiamo adesso estrarre l'ultimo elemento della lista estrarre un elemento da una lista vuota significa produrre false e quindi implementeremo ancora questa funzione come una funzione booleana cioè quando estraiamo la facciamo booleana quando inseriamo facciamo una procedura se andiamo a estrarre dalla coda di una lista che contiene un solo elemento l'elemento e la lista diventa vuota e quindi qui vedete che inizio cambia anche in questo caso il suo valore e quindi dovremo passarlo di nuovo per riferimento adesso vediamo come si fa a estrarre un elemento da una lista quando la lista contiene più di un elemento dovremo scorrere la tutta come prima però ci fermeremo prima perché noi vogliamo andare a eliminare D1 e quindi dovremo fare in modo che il campo succedi D2 diventi NIL e quindi ci dobbiamo fermare un attimo prima l'anello prima cioè utilizziamo di nuovo i due puntatori la lepre Q e il cane P li facciamo scorrere come prima però ci fermiamo quando Q freccia succe è NIL non quando Q diventa NIL cioè ci fermiamo il momento precedente quando Q freccia succe è NIL perché adesso da questa situazione che c'è in grafica noi possiamo operare in maniera molto semplice perché dobbiamo fare in maniera tale che il campo succe di D2 diventi NIL e poi useremo il puntatore Q per fare il purge di D1 prima ovviamente salviamo D1 su A per poterlo restituire al main alla funzione chiamante quindi il campo successivo di D2 cioè P freccia succe diventa NIL E effettuiamo il delete di Q sto andando troppo veloce allora vediamo come si implementa questa di nuovo sarà una funzione booleana e gli passiamo due argomenti la lista e l'elemento tutte e due per riferimento perché tutte e due saranno modificati per prima cosa ci andiamo a a creare la lepre e il cane poi andiamo a vedere se la lista è vuota perché se la lista è vuota finisce qui la funzione restituisce false non possiamo eliminare estrarre dal fondo di una lista vuota se la lista non è vuota facciamo il ciclo di prima dove vedete che però come condizione di determinazione abbiamo messo Q freccia succe diverso da nil non Q diverso da nil questo vuol dire che questo ciclo si fermerà un attimo prima come abbiamo visto in figura un attimo fa a questo punto avremo che Q sta puntando l'ultimo e P sta puntando il penultimo Q sta puntando l'ultimo perché siamo fermati quando Q freccia succe era uguale a 0 quindi Q sta sopra l'ultimo e P sta sopra il penultimo quindi cosa dobbiamo fare ora intanto andiamo a salvare dentro la variabile A passata per riferimento tutte le informazioni contenute nell'elemento che stiamo per cancellare dopodiché andiamo a vedere se stiamo cancellando il primo elemento perché in questo caso che è un caso particolare e cioè stiamo togliendo dal fondo di una lista di un solo elemento quindi stiamo togliendo il primo elemento allora in questo caso inizio che sta puntando quell'elemento che stiamo per eliminare deve diventare 0 perché a quel punto produrremo una lista vuota se non è questo il caso cioè la lista non conteneva solo un elemento dobbiamo fare in maniera tale che P freccia su ci diventi nil P freccia su uguale nil ora Q sta puntando comunque in ogni caso l'ultimo elemento e quindi possiamo fare delete Q per eliminare quell'elemento restituiamo true perché effettivamente l'abbiamo eliminato l'elemento e la funzione è finita avete domande avete domande o commenti richieste di essere più chiaro dubbi dubbi a me a me mi interessava solo info e allora mi sono preso solo info tutto qui grazie per la domanda grazie per la domanda grazie ho ribattuto tutto quanto oggi per fare l'animazione mi sono scancellato appunto info sarebbe appunto info uguale cui freccia info grazie grazie davvero e la facciamo a buona grazie ok non faccio ripartire l'animazione se è chiaro per tutti andiamo alla quinta alla penultima funzione andiamo alla quinta ci mancano l'inserimento ordinato e l'estrazione di un elemento dato inserimento ordinato vuol dire che io voglio andare a inserire un elemento nella lista come abbiamo già fatto due volte abbiamo visto lunedì inserimento in testa poco fa l'inserimento in coda adesso vogliamo inserire in un particolare posto nel posto che rispetta quell'elemento all'interno di una lista supponendo che ci sia un criterio di ordinamento sugli elementi della lista in base a un campo chiave come abbiamo visto quando abbiamo fatto l'ordinamento dei vettori il concetto è lo stesso solo che questa volta vogliamo andare a inserire proprio lì ora inserire al centro di un vettore al centro intendo dire in mezzo significa dover spostare tutti gli elementi a destra del punto dove vado a inserire l'unico vantaggio che hanno le liste dal punto di vista dell'efficienza rispetto ai vettori è che non c'è da fasti spostamenti perché andare a inserire in un punto centrale vuol dire tagliare e poi legare l'estremo di qua all'elemento che vogliamo inserire e legare l'elemento che abbiamo inserito al punto dove abbiamo tagliato non avete capito niente ma sarà chiaro dalla grafica allora supponiamo che esista un ordinamento su questi elementi però ripartiamo sempre dal caso banale il caso in cui la lista è vuota se andiamo a inserire in maniera ordinata all'interno di una lista vuota ciò che produciamo è una lista con un solo elemento cosa vediamo vediamo che il puntatore ha cambiato valore ormai è una cantilena dovremo passarglielo per riferimento un altro caso particolare è che andiamo a inserire ordinatamente il primo quello che starebbe al primo posto in base all'ordinamento vigente quindi di fatto sarebbe un inserimento in testa e quindi cambierà no e si cambierà perché prima stava puntando un altro elemento adesso punto l'elemento che abbiamo appena creato e quello sarà un altro caso in cui cambierà il puntatore all'inizio della lista in generale se abbiamo una lista di tot elementi che hanno un certo ordinamento per esempio T U Z e vogliamo andare a inserire V noi dovremmo inserire V fra U e Z quindi faremo sempre la solita cosa cioè ci creiamo una lepre e un cane per scorrere la lista l'unica cosa che adesso me lo dovete dire voi è che nello scorrimento Q prima lo facevamo arrivare in fondo in fondo poi l'abbiamo fatto arrivare un attimo prima del fondo fondo adesso Q quando è che lo facciamo fermare quando arriva su quando arriva su Z e che cos'è Z al di là del estraiamo un attimo dall'esempio cosa significa Z quello dopo il punto di inserimento per essere un po' lo dico in paniera grezza quello il primo che si incontra più grande di quello che voglio inserire questo è un po' più giusto perché poi lì andremo a effettuare il taglio della lista sì allora facciamo scorrere Q va U e ci chiediamo U è maggiore di V U V Z no allora P lo raggiunge facciamo scorrere ancora qui in avanti e ci chiediamo Z è maggiore di V sì stop e non scorre più il for si esce dal for a questo punto Q mi sta puntando il punto dopo dell'inserimento P mi sta puntando il punto prima dell'inserimento c'ho i due punti fra i quali effettuare il taglio quindi mo che facciamo dobbiamo inserire per cui per prima cosa dobbiamo andare a creare con la new un nuovo elemento nello hip e lo creiamo però ci abbiamo bisogno stavolta sia di P che di Q per fare il bypass e quindi non possiamo usare né P né Q per attaccare per dare come puntatore al nuovo elemento quindi abbiamo bisogno di un altro puntatore ancora che lo chiamiamo R che gli diamo l'indirizzo del nuovo elemento creato purtroppo non abbiamo potuto riutilizzare Q perché adesso Q ci serve ora quindi il nuovo elemento creato sta attaccato ad R innanzitutto ci andiamo a mettere dentro V perché lo dobbiamo caricare e valorizzare e poi effettuiamo l'inserimento come si effettua l'inserimento Q freccia succe uguale R ho detto Q P freccia succe uguale R e Q freccia succe o no e R freccia succe uguale Q ripeto perché mi sono imbrogliato con i nomi P freccia succe uguale R e R freccia succe uguale Q e così effettiamo l'inserimento cioè dobbiamo eliminare P freccia succe che puntava Z perché adesso P freccia succe deve puntare V e c'è P freccia succe uguale R attenzione sta per iniziare la presentazione aziendale di E.B. World al Contamination Lab tutti gli studenti sono invitati a partecipare grazie e adesso dobbiamo mandare R freccia succe a puntare Z ma Z è puntato da Q quindi basta scrivere R freccia succe uguale Q fatto questo è finito il lavoro come viene implementata allora li passiamo è a questo come le altre due di inserimento anche questa è una procedura quindi void restituisce void e li passiamo la lista dove dobbiamo inserire e l'elemento da inserire lo passiamo per valore questa volta ci creiamo tre puntatori la lepre il cane e quello R che mi serve per il nuovo elemento e poi facciamo scorrere il for e lo facciamo scorrere fin tanto che Q freccia info è minore di A punto info A contiene l'elemento che vogliamo inserire il campo info si intende che sarebbe il campo chiave su cui vige l'ordinamento finché il campo info dell'elemento della lista puntato da Q è minore del campo info dell'elemento che vogliamo inserire il puntatore Q va avanti però a un certo punto cosa potrebbe succedere che l'elemento che dobbiamo inserire è l'ultimo della lista in basso all'ordinamento vigente sarebbe l'ultimo e quindi possiamo arrivare alla fine allora per non sfondare la lista ci mettiamo in end anche questo controllo qui questo controllo Q diverso da zero serve nel caso particolare in cui stiamo a inserire Z c'erano T U V e dobbiamo inserire Z allora funziona questo controllo qui quindi in pratica Q va avanti solo quando è vero che non è zero ed è vero che è minore di quello che dobbiamo inserire in questi casi il puntatore Q scorre in avanti si ferma quando una di queste due è falso a questo punto Q sta sicuramente puntando l'elemento successivo al posto dell'inserimento e P sta puntando quello prima a questo punto ci creiamo un nuovo elemento e lo assegniamo al puntatore R perché finché è minore va avanti si ferma quando non è più minore quando trova uno più grande o uguale allora ci creiamo un nuovo elemento e lo attacchiamo ad R andiamo a popolare il nuovo elemento con le informazioni che vogliamo inserirci poi il nuovo elemento appena creato lo attacchiamo a Q prima di Q e poi andiamo a vedere se stiamo inserendo in testa se Q è ancora inizio cioè se è 0 allora inizio diventa R cioè in pratica stiamo inserendo in testa perché stiamo inserendo A invece che come? non ho capito eh stiamo inserendo B che sarebbe il primo se no P freccia succio uguale a R quello che abbiamo visto appena un attimo fa in grafica e la funzione è finita e questa era la penultima delle 6 domande e dubbi? perché? perché si può anche togliere perché sì quel P uguale a 0 si può togliere grazie mi sta avvenendo qualche sospetto lasciacelo un po' ok esercizio per casa per te per me vedere se si può togliere più uguale a 0 se avete domande torniamo indietro se no andiamo all'ultima funzione l'ultima dobbiamo estrarre un particolare elemento dalla lista cioè dentro la lista per esempio ci stanno i nomi di tutti gli studenti che si sono messi a sedere a fare la prova a un certo punto dobbiamo togliere l'elemento che si chiama bianchi o dobbiamo togliere se ce n'è più di uno il primo semplifichiamo dobbiamo togliere uno che ha preso 27 se ce ne sono più di uno che ha preso 27 toglieremo il primo non stiamo supponendo che ci sia un ordinamento qui la lista potrebbe anche non essere ordinata semplicemente entriamo sempre dalla testa andiamo a cercare un elemento che abbia certe caratteristiche quando che l'abbiamo trovato lo eliminiamo anche qui se andassimo a eliminare un elemento da un vettore tutti gli elementi alla sua destra dovrebbero essere spostati di un posto a sinistra questo non sarà necessario farlo adesso con le liste dunque se la lista è vuota e andiamo a togliere un elemento produciamo false e quindi per forza dobbiamo farla booleana anche questa se la lista c'è un solo elemento e togliamo proprio quello produciamo una lista che ha inizio vuoto la lista vuota inizio nil cioè lista vuota nel caso generico dobbiamo togliere v che è un elemento che sta fra u e z ma qui l'ordinamento non è significativo dobbiamo togliere un elemento che nel campo informativo c'ha v allora entriamo dall'ingresso sempre e sempre con i due puntatori e facciamo scorrere Q fino a quando non trova l'elemento che dobbiamo eliminare se lo trova perché potrebbe anche non esserci allora finisco il pensiero perché l'elemento potrebbe non esserci V in questo caso quello che dobbiamo togliere c'è ma se non c'era se non c'era Q doveva arrivare alla fine e restituire false cioè non ho estratto nulla perché non c'era l'elemento da togliere la tua domanda certamente dovremmo anche qui fermarci se non ha trovato l'elemento quando Q è nulla ora che abbiamo trovato l'elemento che dobbiamo fare Q sta puntando l'elemento da eliminare che si fa E Allora U deve puntare a T e quindi U chi lo punta P perché P si è fermato prima quindi P freccia succe deve diventare no V Q freccia succe P freccia succe deve diventare Q freccia succe e V è perduto fortuna che sta piccato a Q quindi facendo delete Q possiamo liberare la memoria occupata da V fortuna abbiamo fatto apposta cioè dobbiamo far sì che P freccia succe vada ad appuntare Q freccia succe finito c'è più niente da fare allora andiamo a vedere come implementare l'ultima funzione sarà la solita booleana con i soliti due argomenti entrambi passati per riferimento ci creiamo la lepre e il cane li facciamo scorrere come diceva il vostro collega certamente mettendoci questo test che non stiamo uscendo dalla lista ovviamente e questo è quello che accade quando l'elemento che stiamo cercando non c'è dentro la lista a questo punto Q arriva fino alla fine e non l'ha trovato quest'altra parte del land è quello che si ferma quando c'è arca miseria c'era il diverso c'era mi sono un attimo scusate in perché io penso sempre di fare errori e ho guardato mi sembra allora quello ovviamente va avanti finché è diverso chiedo scusa quando è uguale si ferma va bene? e allora quando si ferma P sta puntando quello prima l'elemento prima di quello da eliminare a questo punto anzitutto andiamo a vedere se Q è 0 perché se Q è 0 può significare due cose o che non abbiamo trovato l'elemento o che la lista era vuota cioè non c'era proprio elementi dentro la lista in entrambi i casi restituiamo false non abbiamo tolto niente se invece Q non era 0 andiamo a vedere se per caso era il primo elemento da togliere perché in questo caso se Q è rimasto ancora all'inizio vuol dire che proprio quello era quello che volevamo togliere e quindi a questo punto inizio diventa Q freccia succe dobbiamo eliminare il primo salviamo altrimenti P freccia succe uguale Q freccia succe come abbiamo visto nella grafica salviamo l'elemento da togliere stavolta ho usato il suggerimento suo salviamo quello che vogliamo salvare che stiamo per eliminare e poi effettuiamo l'eliminazione definitiva e così è finita anche la sesta funzione quella che mi consente di andare a estrarre un particolare elemento adesso propongo siamo arrivati alla fine della lezione un esercizio ripilogativo in cui le usiamo tutti e sei queste funzioni è quello che state per vedere praticamente è un esercizio quasi più grosso di un esercizio d'esame perché qui ci sono tutte e sei le funzioni al lavoro mentre quando capita un esercizio all'esame per gestire le liste sostanzialmente chiederà di implementare due di queste funzioni che abbiamo visto tre ma non tutte e sei adesso le vediamo all'opera tutte e sei non ho fatto altro che ricopiare letteralmente dalla slide il codice di queste sei funzioni per cui non le stiamo neanche a discutere vi faccio semplicemente vedere la struttura che ho predisposto per realizzare la lista è una struttura con due campi un campo nome e un campo voto stiamo sempre parlando di studenti che si sono messi a sedere a fare una prova d'esame allora c'è la inserisci in testa la estrai dalla testa la inserisci in coda la estrai dalla coda la inserisci ordinatamente e poi mi sono fatto una funzione per vedere se due stringhe sono uguali questo è il classico sercizietto non uso la string non uso la non uso alcuna funzione di libreria me la sono fatta per conto mio per andare a vedere se due stringhe sono uguali poi mi sono messo mi sono copiato la funzione estrai elemento dato che abbiamo appena visto è tale e quale mi sono costruito questa funzione che abbiamo visto l'altra volta per stampare a video il contenuto di una lista dove mi stampo l'indirizzo del campo nome che è il primo e quindi l'indirizzo dell'elemento il nome il voto e poi vado a vedere chi punta quell'elemento quale indirizzo della ram sta puntando e poi il main il main gli ho dato questa struttura di un while di un do while in cui chiedo grazie ecco quello che puoi fare inserisci in testa premi i c per inserirci in coda o per inserire in maniera ordinata t per estrarre dalla testa e per estrarre dalla coda f per estrarre un particolare elemento s per stampare la lista qualunque altro carattere per uscire dopodiché se abbattuto i vado a leggere il cognome e il voto e inserisco in testa alla lista che ho chiamato scritto prova scritta l'elemento che ho valorizzato leggendo dall'input se inserisci in coda fa la stessa cosa però fa partire la procedura inserisci in coda se inserisci in maniera ordinata fa la stessa cosa dopodiché va a inserire in maniera ordinata poi se deve estrarre dalla testa fa partire la funzione estrai dalla testa passandogli la variabile el e e questa scrive ho tolto quello là che ha preso questo qua estrai dalla coda fa la stessa cosa e da ultimo estrai elemento dato vado a leggere il cognome della persona che voglio cercare e faccio partire la funzione estrai elemento dato passandogli una struttura el in cui ci ho messo il cognome della persona che sto cercando se non lo trova metto un if se questa ritorna true vuol dire che l'ha trovato e stampa ho tolto questo signore che ha preso quel voto là se questa funzione estrai elemento dato restituisce false lui mi stampa quello studente non è nella lista ok compilo compilato la lancio grazie ecco quello che puoi fare allora andiamo a vedere stampo la lista non c'è niente inserisci in testa vado a vedere la lista c'è all'indirizzo 10 c'è bianchi che ha preso 22 che non punta nessuno inserisco ancora in testa rossi è inserito in testa l'indirizzo 30 e sta puntando l'indirizzo 10 dove ci sta bianchi però rossi è in testa alla lista bianchi è l'ultimo perché non sta puntando nessuno adesso andiamo a inserire in coda vedete che prima bianchi puntava 0 adesso bianchi punta 50 e a 50 ci sta verdi è lui che punta 0 stavolta quindi nella lista il primo è rossi poi bianchi poi verdi e adesso che devo fare estrai dalla testa inserisci ordinatamente però adesso non è ordinata la lista in basso al voto per cui per renderla ordinata devo togliere il primo esatto e quindi faccio estrai dalla testa ho tolto rossi che aveva preso 23 come faccio a sapere che ha preso 23 perché me lo sono salvato su una struttura e sono andato a vedere da main quanto aveva preso stampo vedete che adesso rossi non c'è più bianchi all'inizio che ha preso 22 e lui sta puntando verdi che ha preso 28 abbiamo due elementi adesso facciamo un inserimento ordinato ho messo sbagliato rossi che avevo tolto aveva preso di più rossi mi ha fatto un reclamo e ha piato adesso piato 25 vedete che adesso rossi è stato inserito fra bianchi e verdi bianchi punta rossi e rossi a 50 punta verdi ci manca da vedere estrai dalla coda che funziona ve lo assicuro adesso andiamo a estrarre un elemento dato estraiamo di nuovo rossi ma questa volta lo estraiamo perché si chiama rossi e com'è? f allora estraggo un elemento dato vado a cercare un elemento il cui campo nome sia uguale alla stringa rossi mi uso quella funzione uguale che l'avete vista prima se no ve la fate per conto vostro ha tolto rossi ha cercato rossi l'ha trovato l'ha eliminato riattaccando i due pezzi della lista bene l'ultima cosa che vi voglio dire è una cosa vediamo se lo ritrovo è una cosa per programmatori smart ma non la trovo ma riprendo da qua allora l'ultimo concetto importante non per l'esame ma sto parlando a futuri programmatori quando che si va a generare memoria in maniera dinamica l'OIP a runtime cresce la memoria cresce sempre più e potrebbe accadere quello che ho detto lunedì che l'OIP sta dentro il segmento stack solo che parte dall'alto e cresce verso il basso lo stack parte dal basso cresce verso l'alto i due potrebbero arrivare a toccarsi in questi casi si creano grossi problemi ovviamente perché uno va solo a scrivere l'altro e quindi ci sarebbe il crash del programma questa è un'eventualità che i programmatori seri fanno in maniera tale che non accada mai bisogna vedere se il sistema operativo e il linguaggio che state utilizzando per programmare vi consente di lanciare le cosiddette eccezioni che vedrete quando farete la programmazione in Java ovviamente c'è tutto il C++ pure ovviamente non esiste nessuna funzionalità di basso livello che non abbia il linguaggio che state conoscendo voi anche le eccezioni possono essere gestite da C++ quello che vedete adesso sulla slide è proprio la tecnica che dovete utilizzare quando usate la memoria dinamica per impedire di mandare in crash il programma qualora non ci sia più memoria a disposizione questo ovviamente non lo può sapere il programmatore perché sarà l'utente che quando sta usando il programma crea alloca RAM non è il programmatore che alloca RAM è l'utente che alloca RAM chiaro? la memoria dinamica è allocata dall'utente non dal programmatore allora come si fa? come fa il programmatore a impedire che l'utente faccia danni? utilizzando una funzionalità che mette a disposizione il linguaggio nel caso del C++ è cambiato fra l'altro la slide che c'era negli anni passati già non funziona più io sto parlando del C++11 che è entrato in vigore nel 2012-2013 in vigore cioè che si sta utilizzando da un paio d'anni ecco dovete includere questa funzione di libreria new come vedete qui e poi la funzione in questione che vi consente di fare il test è questa qui è una funzione di libreria che sta dentro new che si chiama set underscore new underscore handler cioè gestione handler vuol dire è una funzione che gestisce che cosa il fatto che non c'è più memoria questo non memory in realtà altro non è che il nome di questa funzione che ve la fate voi una funzione che in realtà è una procedura per come l'ho implementata adesso qui che segnala che è successo qualcosa in questo caso non ho abbastanza memoria e exit è un'altra funzione di libreria che sta dentro c standard lib e che ti consente di poter è una specie di return però è un po' più efficiente del return allora cosa fa questa tecnica qui settate questa funzione cioè lanciate questa funzione di libreria all'inizio della vostra applicazione e poi fate quello che volete in questo caso la stiamo testando per cui qui scrivo sto cercando di allocare un gigabyte nello heap infatti sto allocando in maniera dinamica un vettore di caratteri potrebbe essere una stringa di un giga caratteri allora se lo lanciate con un giga e avete quattro giga di ram non vi dovrebbe dar problemi e vi risponde ok e non c'è stato nessun problema non c'è stato nessun crash perché per quanto possa essere grande un vettore di un giga non dovreste avere problemi se ne avete quattro di giga ma se qui ci mettete un per due ancora a questo punto il vettore sarebbe di due giga e lo state mettendo nello heap non ci avrete spazio su quattro giga sicuramente forse neanche su otto per cui il programma andrebbe in crash adesso volevo far vedere ma non me lo ritrovo o mi date tempo per iscrivere tutto o vi fidate e ci provate per conto vostro se voi mettete il due qui e quindi fate un nuovo vettore di due giga con questo sistema che vedete qui invece che andare in crash il programma fa partire questa procedura qui che vi scrive non ha abbastanza memoria e poi fa quello che viene dopo io qui ci ho messo exit 1 per dire c'è un errore ma se c'era qualche altra cosa avrebbe fatto quell'altra cosa non sarebbe andato in crash non va in crash cioè questa funzione qui fa una cosa di questo genere il compilatore fa che cosa fa fa un test prima per vedere se c'è abbastanza memoria per fare l'allocamento dinamico che l'istruzione successiva richiede se non c'è quell'allocamento della dinamica memoria non viene effettuato e il programma non termina per errore dopo fa altre cose quello che il programmatore avrà predisposto che dovrà fare quindi quello che avete appena visto è una tecchia di programmazione evoluta solo quando c'è una new solo quando c'è la new cioè quando c'è un'allocazione certo che se voi la usate questa funzione questo handler lo usate dentro una new che ogni volta alloca un byte le prestazioni saranno drasticamente ridotte perché ogni nuovo byte che va allocare va a vedere se c'è spazio per quel byte lo fa un miliardo di volte e chiaramente il programma si rallenta ma se dovete allocare grossi chunk di memoria per esempio quando si lavora con le immagini viene usato questo quando si lavora con le immagini ogni frame sono pezzi da svariati vettori di qualche megabyte allora prima di allocarlo va a vedere se c'è ancora spazio in maniera tale che se non c'è più spazio il programma segnala che non c'è spazio e fa una procedura di recovery ma il programma non termina ecco è chiaro? se è chiaro a questo punto io non c'ho più niente da dire della lezione di oggi e quindi termino la registrazione è Grazie a tutti.